Ben ritrovati su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca partendo da Messina dove i carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio. Il bilancio dell'ultimo servizio di controllo parla di un arresto per coltivazione di cannabis e diverse denunce per vari reati. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Messina Sud nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio hanno rafforzato la sorveglianza in diversi quartieri della città. I militari dell'arma supportati dal nucleo radiomobile del capoluogo hanno intensificato i controlli per prevenire e contrastare i reati compresi quelli legati allo spaccio di droga, ai delitti predatori, alle violazioni del codice della strada e ad altre condotte illecite che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. Complessivamente sono state controllate 68 persone e 63 autovetture. Nel corso dei controlli antidroga i carabinieri hanno segnalato alla prefettura quattro persone per assunzione di sostanze stupefacenti sequestrando diverse dosi di marijuana, cocaina e crack. Inoltre un 22enne è stato arrestato per coltivazione di cannabis nel suo appartamento dove sono state rinvenute sette piante alte fino a due metri, attrezzature per la coltivazione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Durante i controlli sono state denunciate anche due persone, un uomo e una donna, per furto di energia elettrica mediante un bypass. Un trentenne invece, sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per non essere stato trovato nella sua abitazione al momento del controllo. Infine, due persone sono state deferite per guida in stato di ebbrezza. Torniamo a parlare invece di furbetti del reddito di cittadinanza perché i carabinieri hanno scoperto e denunciato altri soggetti che appunto percepivano indebitamente il sussidio. Si parla di 87 denunciati nel Catanese e di un danno all'erario di circa 600 mila euro. Ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. Una complessa attività investigativa intrapresa tra l'ottobre 2022 e il febbraio 2023 sull'area del Calatino-Palagonese dal Comando Provinciale di Catania, congiuntamente alla Direzione Provinciale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di Catania e con il supporto dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, ha consentito ai carabinieri delle compagnie di Caltagirone e Palagonia di denunciare alla Procura della Repubblica di Caltagirone 87 soggetti ritenuti responsabili di aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza nell'arco temporale compreso tra il 2019 e il 2022. L'indagine, che trae origine da un'analisi approfondita sulle singole posizioni dei cittadini percettori di erogazioni pubbliche erogate dallo Stato, ha fatto emergere molteplici ed evidenti irregolarità, consentendo di accertare come gli indagati, ricorrendo a dichiarazioni mendaci o al contrario mettendo informazioni dovute, avrebbero ottenuto il beneficio senza averne diritto con la piena consapevolezza di voler ingannare lo Stato italiano. Tre, in particolare, gli stratagemmi attraverso i quali i furbetti, residenti nei comuni di Caltagirone, Gran Michele, Palagonia, Ramacca, Vizzini e Mineo, avrebbero concretizzato le frodi. Oltre infatti a coloro che avevano evitato di dichiarare il reddito da lavoro dipendente, le cosiddette giornate di lavoro, e di essere destinatari di indennità di disoccupazione agricola, sono stati individuati, tra gli indagati, anche una decina di persone che avrebbero comunicato dati incongruenti su composizione o capacità reddituale dei rispettivi nuclei familiari, ricevendo il sussidio in misura maggiorata rispetto a quanto dovuto, nonché quattro extracomunitari non residenti in Italia da almeno dieci anni. Tra gli 87 deferiti, circa la metà di questi sono soggetti già noti alle forze dell'ordine per reati che vanno dalla detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti al porto abusivo di armi, rapina, resistenza pubblico ufficiale, truffa ai danni dello Stato e falso. Tra le posizioni esaminate, emblematica la figura di un 24enne di Caltagirone, che nonostante fosse già stato destinatario nel gennaio 2020 della misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione Nebrodi, volta a contrastare l'omonimo sodalizio criminale per associazione a delinquere di stampo mafioso, contraffazione, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso, aveva incassato senza averne diritto circa 8 mila euro. Dagli accertamenti è emerso inoltre, come in 32 casi, la richiesta non sia stata avanzata da colui che ne avrebbe beneficiato, ma dalle mogli e sorelle degli indebiti percettori, che tuttavia in seguito non avrebbero riferito all'Inps, che i propri congiunti avevano intrapreso un'attività lavorativa. L'importo complessivo riscosso indebitamente a vario titolo tra il 2019 e lo scorso settembre è di circa 600 mila euro. Al riguardo l'Inps ha già revocato il beneficio con efficacia retroattiva a tutti i denunciati e ha altresì avviato le necessarie procedure di restituzione di quanto illecitamente percepito, evitando così che l'erario continuasse a elargire ai soggetti denunciati ulteriori consistenti somme non dovute. I controlli avviati sin dal 2021 nella provincia di Catania, anche in collaborazione con il nucleo carabinieri spettorato del lavoro del capoluogo etneo, hanno consentito di individuare e deferire complessivamente circa mille persone che riscuotevano il sussidio senza averne il diritto, per un danno complessivo alle casse dello Stato nel quadriennio 2019-2022 di complessivi 7 milioni di euro. Tra questi almeno 80 cittadini avevano personalmente richiesto e ottenuto il beneficio, pur essendo gravati da sentenze passate in giudicato per i reati di associazione di tipo mafioso, oppure omettendo di comunicare che all'interno del proprio nucleo familiare vi fosse tra i destinatari del reddito di cittadinanza anche un proprio congiunto gravato da sentenze di condanna definitive per associazione di tipo mafioso. Si sente male durante una partita di calcetto, si accascia a terra e muore. La tragedia è avvenuta ad Agrigento. A perdere la vita ieri sera è stato un 49enne, Vincenzo Re, questo il suo nome. Il fatto è accaduto in un campetto della borgata balneare di San Leone, come detto ad Agrigento. Qui gli amici e responsabili della struttura sportiva hanno chiamato il 118 e l'ambulanza è arrivata sul posto nel giro di pochi minuti. Purtroppo però per il 49enne non c'è stato nulla da fare. La vittima, che a quanto pare non soffriva di particolari patologie, è spirata purtroppo prima di poter arrivare in ospedale e ricevere altre cure. Cambiamo decisamente argomento. A noto due persone sono state invece denunciate dalla Polizia di Stato per una truffa su una polizza assicurativa. I dettagli nel servizio. Agenti del commissariato di noto hanno denunciato un uomo di 41 anni già noto alle forze di polizia e un altro di 28 per il reato di truffa in concorso. Il 2 febbraio scorso un uomo si presentava presso gli uffici del commissariato per sborgere querela per truffa. Nello specifico la vittima riferiva di aver acquistato a dicembre un veicolo per il proprio figlio e di aver stipulato online una polizza assicurativa corrispondendo la somma di 500 euro. L'uomo si era collegato al sito di una compagnia assicurativa e subito dopo aveva ricevuto una telefonata da parte di un operatore che lo informava del premio annuo da corrispondere pari a 500 euro. Per definire il tutto il sedicente operatore assicurativo richiedeva l'invio tramite whatsapp di una copia del documento del contraente, della carta di circolazione del veicolo da assicurare e il pagamento della quietanza concordata effettuando una ricarica su una carta. La vittima effettuava la transazione utilizzando la propria carta di credito e ricevendo sempre su whatsapp un file pdf contenente un certificato di assicurazione riportante i dati del veicolo e il numero di polizza. Successivamente la vittima contattava la compagnia di assicurazioni e l'operatore dopo aver controllato sia la targa che il numero di polizza confermava al malcapitato che l'autovettura non risultava assicurata con la loro compagnia. Gli accertamenti investigativi espletati sull'utenza cellulare dell'operatore con il quale aveva interloquito la vittima nonché sull'intestatario della carta hanno consentito di risalire a due individui responsabili della truffa in concorso, un napoletano e un uomo originario del Burkina Faso, entrambi residenti in Italia, raggiunti e deferiti dalla polizia del luogo dove dimoravano. A Vittoria nel Ragusano un uomo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti sia nella propria auto che nella propria abitazione, per questo è stato denunciato dai carabinieri. Continuano senza sosta i controlli del territorio del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa con attività preventive di contrasto ad attività illecite in materia di sostanze stupefacenti. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vittoria, durante un'ordinaria attività di controllo alla circolazione stradale, hanno preceduto al controllo dell'autovettura condotta da un uomo, il quale sin da subito ha manifestato una certa insofferenza all'attività dei carabinieri, palesando un atteggiamento nervoso e reticente agli accertamenti usuali. Il comportamento ingiustificato dell'automobilista ha addestato particolare sospetto agli operanti che stavano procedendo alla verifica del suo titolo di guida e dei documenti del veicolo, pertanto hanno deciso di approfondire i controlli rinvenendo 27 dosi di cocaina. I carabinieri, ritenendo opportuno effettuare ulteriori controlli per meglio definire la posizione dell'automobilista, hanno esteso gli accertamenti alla sua abitazione, dove hanno rinvenuto altra droga, nello specifico hashish, un quantitativo tale da poter ricavare 33 dosi. L'uomo è stato quindi deferito all'autorità giudiziaria per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A Custonaci invece, nella Trapanese, un cittadino nigeriano è stato arrestato dai carabinieri, ha infatti aggredito gli stessi militari dell'arma minacciandoli con una spranga in ferro. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Arrestato dai carabinieri della stazione di Custonaci per resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali dopo che si è scagliato contro i militari dell'arma con una spranga di ferro. L'uomo, un nigeriano di 38 anni colpito e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, è stato arrestato dai carabinieri già due volte nel solo mese di febbraio per aver disatteso le disposizioni imposte dal giudice. Lo straniero, infatti, era stato sorpreso nelle immediate vicinanze del posto di lavoro della vittima in violazione del citato provvedimento. Da queste violazioni ne è scaturito un aggravamento della pena che ha previsto per l'indagato un provvedimento di divieto di dimora nel comune di Custonaci. Questa misura ha fatto andare su tutte le furie il 38enne che, alla vista dei carabinieri giunti per la notifica della nuova misura cautelare, li aggrediva con calci, pugni e spintoni fino a minacciarli con una spranga di ferro. Con non poche difficoltà, l'uomo è stato bloccato e arrestato dai militari che hanno riportato delle lesioni per le quali è stato necessario l'intervento dei sanitari. A seguito del giudizio direttissimo, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per lo straniero che è stato pertanto ristretto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani. Un'aggressione alle forze dell'ordine. Stavolta la polizia si è verificata anche ad Acireale nella Catanese. Anche in questo caso un cittadino nigeriano, un 35enne, si è scagliato contro i poliziotti colpendoli con un bastone. È stato chiaramente arrestato e poi condotto in carcere. Agenti del commissariato di Acireale hanno arrestato un cittadino nigeriano di 35 anni, gravemente indiziato dei reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo era stato fermato e controllato dai poliziotti della volante, intervenuti a seguito della segnalazione di schiamazzi presso il deposito della stazione nuova di Acireale. Ma alla richiesta degli operatori di mostrare i documenti, il cittadino nigeriano ha dimostrato un atteggiamento ostile e nonostante gli inviti alla calma, ha perseverato nel suo comportamento costringendo i poliziotti a estrarre il taser e avviare le procedure di utilizzo. A questo punto il 35enne ha impugnato un bastone e tutt'altro che intimorito ha sferrato un colpo contro un agente colpendolo alla spalla. L'altro poliziotto ha quindi messo fine alla violenta aggressione utilizzando proprio il taser in modo da rendere inoffensivo l'assalitore e procedere in sicurezza al suo arresto. Condotto presso gli uffici del commissariato, durante la perquisizione personale, il cittadino nigeriano è stato trovato in possesso di documenti, carte di credito e uno smartphone, tutti riconducibili a un furto avvenuto nel giugno del 2022, per il cui possesso l'uomo dovrà ora rispondere anche del reato di ricettazione. L'arrestato, dopo gli edempimenti di rito, è stato associato presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania. I carabinieri di Siracusa hanno tratto in arresto un 22enne di Carlentini sorpreso a bordo di un'auto rubata poco prima nel centro abitato di Siracusa. Il mezzo è stato restituito all'avente diritto, mentre il giovane è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Sempre nel Siracusano, ma a Priolo Gargallo, i carabinieri hanno arrestato una donna di 59 anni, in ottemperanza a un ordine di esecuzione e pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, poiché è riconosciuta colpevole di truffa aggravata e tentato furto. La donna dovrà scontare la pena di un anno e tre mesi in detenzione domiciliare. Ci fermiamo qui, per il momento è tutto, ma l'informazione ovviamente prosegue su Sicilia 24.